Forte vento e mareggiato in arrivo, allerta arancione della protezione civile. Mercato immobiliare a Pesaro, prezzi più alti e vendite di casa in calo. Una bombola spray danneggiata procura irritazioni, evacuato condominio a Pesaro. A Pesaro la sostenibilità ambientale diventa materia scolastica per mille studenti. Si scaldano le atmosfere natalizie con la ventunesima edizione di Candele a Candelara. Buonasera a tutti voi telespettatori e telespettatrici di Rossini TV. Ben ritrovati al nostro appuntamento serale con l'informazione di Rossini News. telegiornale di martedì 19 di novembre che apriamo dandovi informazione in merito a un cambiamento di condizioni meteorologiche in arrivo sul territorio della provincia di Pesaro Urbino ma più in generale della regione Marche perché oggi la protezione civile ha diramato un'allerta arancione per forte vento a partire dalle 21 di questa sera e per tutta la giornata di domani, mercoledì 20 di novembre. Sono infatti previsti venti da sud-ovest che nelle zone collinare e costiere potranno raggiungere l'intensità di burrasca forte con venti oltre i 90 km orari. Zone costiere in cui si potrà raggiungere addirittura l'intensità di tempesta violenta con venti superiori ai 100-110 km orari. Protezione civile che invita dunque a prestare attenzione al rischio di cadute di alberi e rami. Da giovedì invece ci sarà un sensibile calo delle temperature con le massime che in provincia di Pesaro Urbino non andranno oltre gli 11 gradi. Ed ora dedichiamo il nostro primo servizio ad un focus sul mercato immobiliare di Pesaro. Ieri sera è infatti stato presentato il 14esimo osservatorio immobiliare che come ogni anno fornisce un termometro sull'andamento di prezzi e vendite di case e appartamenti nel nostro territorio in particolare nella città di Pesaro. Vediamo a tal proposito il servizio di Teobaldo Bianchini. Si è tenuto presso l'hotel Charlie di Pesaro l'appuntamento annuale della Federazione Italiana Agenti Immobiliari e Professionali di Pesaro Urbino in occasione della 14esima edizione dell'osservatorio immobiliare un'agenda che guida il settore dell'immobiliare provinciale tracciando prezzi di acquisto e di vendita degli immobili del territorio permettendo così di studiare il mercato e allo stesso tempo di avere una visione chiara del suo andamento nel corso dell'anno. La 14esima edizione della presentazione di questo osservatorio è 14 anni che monitoriamo e mettiamo un punto ai prezzi di mercato di quelli che sono i prezzi degli immobili di tutta la provincia di Pesaro Urbino. Ormai da 14 anni, come dicevo prima, facciamo questo importante libro che per noi è ormai un momento di incontro, è un faro perché, tra virgolette, dà la luce, illumina il settore e dà per dare prezzi di mercato più attendibili e più precisi per quello che riguarda il comparto immobiliare. I prezzi sono leggermente in aumento soprattutto per il discorso delle nuove costruzioni perché con i costi dei materiali per fare classi energetiche elevate quindi immobili con prestazioni energetiche elevate ovviamente i prezzi si sono comunque dovuti alzare. Abbiamo un leggero aumento anche per i prezzi dei appartamenti di piccola dimensione quindi bilocali e monolocali perché comunque con il discorso di inflazione la gente si è rifugiata ovviamente quando la finanza ha delle problematiche si rifugia nel mattone, in questo caso tra gli affitti estivi, turistici e tutto quanto visto anche un po' il discorso di peso al capitale della cultura italiana hanno avuto un buon rialzo e un buon aumento dei prezzi comunque con un'ottima vendita degli appartamenti di monolocali. Sono dati che noi ormai chirurgici siamo, io dico sempre abbiamo il polso del mercato della situazione per cui cerchiamo sono proprio prezzi del compravenduto per cui diamo delle indicazioni divise per nuova costruzione, ristrutturazione abitabile da ristrutturare e ovviamente questi portano ad avere dei parametri sulla vendita dell'immobile, sui prezzi dell'immobile. Prezzi d'acquisto e di vendita determinati nel 2024 anche dall'anno di Pesaro capitale italiana della cultura, interessante quindi la lettura degli anni che verranno. Per comprendere se la scia di prezzo subirà variazioni che terranno conto di un anno particolare come questo. Secondo me non saliranno, rimarranno all'incirca gli stessi. Sicuramente è una scia che ci portiamo un bel trend positivo perché comunque il turismo è sicuramente aumentato quindi Pesaro è anche una città turistica ormai per cui questo trend sarà sicuramente, ce lo ritroveremo nel 2025 e secondo me anche un po' nel 2026. Quindi i prezzi secondo me però rimarranno costanti per un discorso di accessi al mutuo e tutto quanto quindi una serie di considerazioni da fare un po' più allargate ma a mio avviso i prezzi rimarranno all'incirca stabili con compravendite che rimarranno all'incirca sempre comunque con lo stesso numero di un migliaio sulla zona di Pesaro provincia. Situazione immobiliare che ci collega ad un tema nel quale ci siamo occupati ieri quello delle torri di Muraglia con il progetto di due edifici da 12 piani per 88 appartamenti che sorgeranno nell'area dell'ex fabbrica Carloni compresa fra via Guerini, il campo sportivo e la nuova circonvallazione. Un progetto sul quale il Comune ha ricordato di avere le mani legate in merito ad una capacità edificatoria al privato consentita dal PRG del 2001. I residenti però non ci stanno e si mobilitano contro un'edificazione ritenuta ulteriormente impattante in un quartiere che attende anche l'arrivo del nuovo ospedale. Residenti che dunque si ritroveranno in assembla pubblica domani alle 21 alla Casa del Popolo di Muraglia. Questo pomeriggio è stato evacuato un condominio di via Togliatti a Pesaro dopo che i Vigili del Fuoco sono intervenuti in seguito ad odori anomali all'interno del palazzo che avevano procurato effetti irritanti alla gola ad alcuni condomini. I Vigili del Fuoco hanno dunque verificato come la causa fosse procurata da una bombola di vernice spray danneggiata presente in un garage che era agito assieme ad altre sostanze vicine. Il palazzo è stato rapidamente messo in sicurezza, l'ambulanza è intervenuta in via precauzionale e non ci sono stati ricoveri in ospedale. Fare sinergia con i comuni della provincia per presentarsi con una proposta unica davanti agli enti proposti alla promozione, aumentare la qualità del turismo, rafforzare gli elementi della destagionalizzazione. Sono questi gli obiettivi contivisi ieri durante il turismo e territorio, sviluppare una destinazione diffusa e sostenibile, ovvero il secondo tavolo di lavoro promosso dal Comune di Pesaro al quale hanno partecipato decine di professionisti del comparto, tra cui istituzioni, albergatori, tour operator, guide turistiche, associazioni di categorie, organizzazioni sindacali, agenzie e organizzatori di eventi sportivi e culturali. A coordinare il pomeriggio che si è svolto nella sede di Alpitour, il sindaco Andrea Biancani e il vice sindaco Daniele Vimini. Ed ora ci occupiamo di una progressiva svolta all'insegna dell'inclusione e della accessibilità a Pesaro. Parte infatti un nuovo cantiere a Baia Flaminia che ci viene illustrato dall'ex presidente del Consiglio Comunale Marco Perugini. Partono i lavori per Baia Flaminia, l'abbattimento di barriere architettoniche tramite un bando, un finanziamento vinto da questa amministrazione grazie al lavoro dell'assessore vice sindaco Daniele Vimini, un progetto denominato Market for All, un progetto che ci consentirà tramite investimenti e spese per progettualità e sentieristica polisensoriale di attivare tutta una serie di interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche in Baia Flaminia. In particolare in un luogo super frequentato, un luogo bellissimo, all'appendice del San Bartolo o nel San Bartolo, Campo di Marte e Baia Flaminia saranno presto accessibili fino all'acqua, anche per coloro che hanno mobilità ridotta, ipovedenti e persone sorde. Questo è un intervento di circa 140 mila euro, un intervento che consentirà da già attivate piste ciclabili di raggiungere la battigia di Baia Flaminia e godere dell'acqua, del mare e del bellissimo nostro parco San Bartolo, anche per coloro che hanno mobilità ridotta. Un intervento importante condiviso con le associazioni, legambiente ampi per citarne alcune, ma soprattutto con il consiglio di quartiere. Un intervento che permetterà, sì da una parte eliminare le barriere architettoniche per l'accesso alla battigia, ma anche di valorizzare un monumento molto importante per Pesaro, i pesaresi e la provincia di Pesaro Rubino. Il monumento ai tre martiri, un monumento che attualmente è collocato sul campo di Marte in un luogo poco felice per la visibilità e per la storia di questi tre martiri uccisi in seguito all'occupazione nazifascista, ma che era valorizzato e rese anche questo accessibile all'interno dell'intervento di riqualificazione e di accessibilità di Baia Flaminia. A Pesaro l'educazione e la sostenibilità ambientale diventano vere e proprie materie scolastiche. A salire in cattedra saranno legambiente e gli operatori di marche multiservizi. Non solo raccolta differenziata, ma anche riduzione dei rifiuti, uso responsabile dell'acqua, consapevolezza del riscaldamento globale in atto e valore delle api nell'ecosistema. Temi ambientali che diventano vere e proprie materie scolastiche che in questo anno didattico saranno sui banchi di più di mille studenti pesaresi dalla scuola primaria al liceo. Una campagna di educazione ambientale che legambiente a Pesaro ha avviato da anni e che ora diventa ancora più strutturata grazie al nuovo accordo con Marche Multiservizi volto a portare i giovani pesaresi a scuola di sostenibilità. Legambiente l'ha sempre fatto, è un lavoro che noi perseguiamo ormai da anni. Quest'anno abbiamo questi tre progetti, uno verte sull'acqua, l'altro sui rifiuti e l'economia circolare, il terzo sulle api, gli impollinatori e la biodiversità. Questi progetti quest'anno li facciamo in collaborazione con Marche Multiservizi perché così diamo la possibilità ai ragazzi che lo vogliono di visitare anche gli strumenti che Marche Multiservizi gestisce, appunto quelli dell'acqua o quelli dei rifiuti. Noi riteniamo che solo attraverso la conoscenza ci può essere l'impegno dei giovani che sono il futuro, quindi sono quelli a cui probabilmente le scelte che noi abbiamo fatto e che oggi paghiamo con tante disgrazie, come vediamo continuamente, purtroppo loro le pagheranno più di noi. Quindi è giusto che sappiano anche per darci una mano a modificare questo stato di cose perché è possibile modificare se naturalmente ci impegniamo tutti quanti. Abbiamo la reale testimonianza che il clima sta cambiando, che il nostro territorio è anche vittima di un forte cambiamento e sensibilizzare i ragazzi e di conseguenza anche le famiglie che seguono le indicazioni delle nuove generazioni è un tassello importante di quella che è un'educazione che da sempre portiamo avanti come amministrazione. Nelle scuole dell'infanzia e nei nidi noi già facciamo educazione all'aperto ritenendo le tematiche ambientali fondatrici di quelli che sono i nostri valori educativi. Con questa iniziativa vogliamo ancora di più cercare di dare un messaggio, di dare un contributo con una serie di strumenti che abbiamo messo a disposizione con il nostro personale che insieme a quello dell'Elega Ambiente andrà nelle scuole ma anche favorendo e spingendo per la visita dell'impiantistica, degli impianti gestiti da Marche Multiservizi perché noi abbiamo un bilancio che spesso viene evidenziato per i numeri positivi ma quello che è altrettanto importante è il bilancio di sostenibilità che noi pubblichiamo, presentiamo e inviamo a tutti gli amministratori e stakeholder perché rendicontiamo quello che l'Europa ci chiede in termini di raggiungimento degli obiettivi però questo non è sufficiente perché per raggiungere livelli ottimali di raccolta differenziata in questo caso sto parlando di economia circolare in generale ovviamente dobbiamo agire non solo sulla normativa ma anche sulla sensibilità e i bambini, i ragazzi delle scuole sono fondamentali perché poi trasferiscono concetti e pratiche anche all'interno della famiglia perché appunto al di là della metodologia con la quale si applica si recupera la raccolta differenziata la differenza oltre a un certo livello la fa appunto la sensibilità dei cittadini e la stessa marca e multiservizi comunica che a causa dei lavori in corso di ammodernamento e efficientamento della rete idrica nella giornata di giovedì 21 novembre potrebbero verificarsi interruzione d'acqua o cali di pressione nelle abitazioni della frazione pesarese di Fiorenzuola di Focara dalle 8 alle 17 o nello stesso orario nelle vie del comune di Gabicce Mare che vi mostriamo in questa grafica e questa mattina le nostre telecamere si sono accese nel circolo recreativo pesarese di Loreto dove si stanno facendo le prove generali di uno spettacolo molto particolare che ci viene illustrato nelle servizie di Teobaldo Bianchini prove generali per lo spettacolo e Dio creò il caco che chiude il progetto scrigni sotto la sabbia nato all'insegna di Pesaro 2024 per promuovere la cultura della solidarietà mettendo insieme tantissime realtà sociali e del volontariato pesarese all'insegna del teatro che si esibiranno il 30 novembre al Teatro Rossini con due spettacoli uno al mattino per le scuole e uno alla sera per la cittadinanza ci tenevamo a far partire questo progetto in quest'anno importante che è quello della capitale della cultura perché volevamo parlare anche della cultura della solidarietà e quindi abbiamo fatto un'operazione molto importante abbiamo messo insieme tutto il mondo è legato alla disabilità ai centri diurni ci sono la Labirinto la T41A e B l'Alfa l'Aias il CES tutti insieme hanno collaborato per realizzare prima un progetto che è iniziato mesi fa di rete di collaborazione di relazioni tra tutti i soggetti dei centri diurni che gestiscono i centri diurni per disabili del nostro territorio e a breve si riuniranno nello spettacolo del 30 novembre che si chiama Dio creò il capo abbiamo avuto anche sostegno ci tengo a dire la collaborazione diretta della Gymnal che parteciperà allo spettacolo ma anche dei Lions della Cop che hanno voluto sostenere il progetto coinvolge quasi 90 persone fra educatori dei centri e ragazzi dei centri ma molti di più per l'organizzazione e l'organizzazione dei costumi quindi è un regalo che vogliamo fare alla città e vogliamo farci noi lavorando in rete e ribadendo quello che è la cultura la tradizione della solidarietà nel nostro territorio uno spettacolo particolare la cui trama lascia spazio ad interpretazioni metafore e parallelismi come ci racconta il direttore artistico il progetto si chiama Scrini sotto la sabbia gli scrini sono tutti gli attori che hanno un tesoro dentro di loro a volte magari ci può essere l'esterno che può sembrare incrostato ma una volta che uno scopre cosa c'è dentro scopre un tesoro e la sabbia molte volte sono un po' gli stereotipi che vogliono queste persone marginate mentre invece appunto scoprendoli lavorando oggi insieme si può scoprire il loro valore e il teatro è proprio questo grande catalizzatore capace di tirar fuori le loro potenzialità spesso sopite abbiamo scelto un tema divertente il tema è la creazione vista in maniera ironica il titolo si chiama Ed io creo il caco e sono un gruppo sgangherato di angeli che devono creare una creazione che loro non vogliono creare perché stanno molto bene nel nulla eterno ma il loro capo li obbliga a creare questa creazione in sei giorni e loro scopriranno man mano che il tempo passa che questa creazione per loro è qualcosa di importante perché man mano che loro costruiscono qualcosa anche loro diventano da bambini piccoli persone adulte responsabili è un po' un modo per trasmettere l'importanza di farsi carico di quello che abbiamo intorno e continuiamo la nostra marcia di avvicinamento agli eventi natalizi in arrivo dopo avervi presentato ieri il Natale di Monbaroccio oggi andiamo a scoprire la ventunesima edizione di Candela Candelara che partirà questo sabato 23 di novembre è un evento importante perché come sappiamo veramente porta persone in un periodo dell'anno dove sicuramente Pesaro non è piena di turisti voglio comunque ringraziare la Proloco di Candelara che è fatta dietro il nome Proloco ci sono decine e decine di volontari che ogni anno si mettono a disposizione durante il fine settimana ma c'è tutto il lavoro sia di preparazione sia di smontaggio della festa abbiamo cercato di arricchire la manifestazione mettendo un trenino molto bello che accompagna fare anche delle visite guidate in modo da poter arricchire la manifestazione tre sono le visite guidate a Villa Berloni alla Pieve del XII secolo e al Museo del Telaio del Ricamo questo avviene all'esterno della manifestazione entrando dentro la manifestazione ecco ci sorprendiamo sicuramente con un mercatino particolare selezionato dove ci sono 70 espositori per i bimbi grande novità è chiaramente il laboratorio ma anche giochi storici in legno con la presenza di Babbo Natale per cui consegneranno direttamente la loro letterina questa grande manifestazione oramai da 21 anni vada sottolineato il fatto della grande disponibilità dei tanti volontari che si prestano alla realizzazione di questo grande evento persone che si impegnano per mesi e quindi attualmente da presidente della prologo li voglio ringraziare ad uno ad uno perché ci tengo particolarmente ci si diverte ci si impegna per realizzare un grande progetto nato e cresciuto nel tempo il comune di Fana ha presentato oggi in giunta l'assestamento di bilancio per il 2024 e il bilancio di previsione 2025 con i punti focali illustrati dal sindaco Luca Serfilippi che prevedono un grande piano delle asfaltature da oltre 2 milioni di euro e interventi a Fano Sud e Ponte Sasso che vedranno un investimento di 14 milioni e 700 mila euro per affrontare i problemi idrogeologici e gli allagamenti che hanno colpito queste comunità negli ultimi anni inoltre il 2025 sarà anche l'anno del piano urbano del traffico per il quale l'incarico è già stato affidato e che segnerà un potenziamento significativo della sicurezza a Fano Sostenere la competitività delle imprese turistiche dei territori per far crescere appunto il turismo nelle marche Gli albergatori Assotel Confesercenti di Peso Robino si sono confrontati su questo tema con l'eurodeputato Matteo Ricci nel corso di un incontro che si è svolto lunedì a Bruxelles nella sede del Parlamento Europeo un confronto nel quale si è ribadita la centralità del turismo per l'Unione che ne rappresenta il 10% del Pile e sono stati affrontati temi prioritari per questo settore ed ora vi segnaliamo che giovedì 21 novembre alle 18 nella sala corsi di Banca di Pesaro Credito Cooperativo in via Milano si terrà l'incontro dal titolo Imprese tra cultura del benessere e produttività rivolto agli imprenditori e i loro dipendenti sponsor e consorziati della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro ad aprire il panel sarà la professoressa Germana Giombini docente di benessere e produttività del lavoro che poi lascerà spazio a Stefano Amatori professore di attività fisica e benessere dei lavoratori ed ora concludiamo il nostro telegiornale con una nuova rassegna archiviata infatti il mese dedicato alle fiere del tartufo del nostro territorio c'è invece il comune di Cagli che lancia una nuova proposta dedicata interamente ai funghi il 30 novembre primo dicembre Cagli ospita tutto fungo prima edizione di una rassegna che raccoglie l'eredità culturale di precedenti eventi organizzati già da tre anni in un territorio in cui si raccolgono funghi 12 mesi l'anno un viaggio a 360 gradi su un prodotto che rappresenta un vero fattore culturale del territorio declinato in una due giorni che spazierà da una domenica alla ricerca del fungo alla presenza di esperti fino a una mostra micologica passando per arte ed enogastronomia non parleremo del fungo soltanto da un punto di vista diciamo enogastronomico ma parleremo del fungo da un punto di vista anche artistico culturale ambientale ma anche a livello proprio medico e curativo quindi proprio sono tutte le possibili sfaccettature di questo micete che ha un'importanza fondamentale per il territorio di Cagli che può essere anche racchiuso in Cagli fungo tutto l'anno la rassegna è stata presentata nella sede di Confcommercio Marca e Nord partner consolidato di Cagli all'interno della rete degli itinerari della bellezza ma anche dell'artista Giovanni Gaggia che il 30 novembre modererà il talk il food incontra l'arte in collegamento durante la conferenza anche il critico enogastronomico Antonio Paolini per parlare di funghi che saranno trattati anche dalla maestria di grandi chef stellati in una cena spettacolo al ristorante Le Fontane l'intento è quello di creare proprio una manifestazione ricorrente sul tema e l'amministrazione quest'anno si avvalsa di collaborazioni molto importanti tra le quali un'associazione che ha preso in mano diciamo la collaborazione nella gestione di questo progetto ma soprattutto ci siamo circondati di persone molto esperti nel settore cioè vale a dire di micologi di giornalisti enogastronomici di artisti che lavorano nel settore appunto dell'arte perché ci sarà anche una mostra in plein air molto interessante è un programma molto molto ampio e cioè dal sabato mattina 30 di novembre fino alla sera del primo dicembre a chiusura addirittura uno spettacolo musicale in collaborazione con l'orchestro Olimpia e quindi diciamo che è una manifestazione che vuole andare a scavare come il fungo è declinabile sotto vari profili insomma si conclude qui questa nostra edizione del telegiornale Rossini News prima di salutarci vi ricordo come sempre alcuni appuntamenti sulla nostra emittente a cominciare da quello che arriva subito dopo il TG come ogni martedì alle 20 è il momento della rubrica pillole di bellezza questa sera si risponderà alla domanda come scegliere i trattamenti giusti ed efficaci per il corpo dunque appuntamento questa sera alle 20 a seguire come ogni martedì cultura territorio impresa undicesima puntata che ci porterà alla scoperta delle figure di Andrea Bonacorsi della Progeco SRL di Lorenzo Topi dell'azienda agricola del Sottobosco di Acqualagna e di Maurizio Mezzanotti di Domo S.P.A appuntamento alle 21.20 e poi ancora spazio allo sport andremo a riproporvi la differita relativa alla vittoria della Fiorini Pesaro Rugby di domenica a Muraglia contro la capolista Rugby Viadana potrete rivedere tutto questa sera a partire dalle 21.40 e poi l'informazione di Buongiorno Rossini la nostra rassegna stampa dei quotidiani locali che torna puntuale domattina in diretta alle 7.20 in una rassegna di mercoledì 20 di novembre che sarà condotta dalla nostra direttrice Emanuela Rossi si chiude invece qui l'informazione di Rossini News vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia dei nostri programmi Grazie a tutti